Ogni mattina un rituale segreto tra due campioni. Ma cosa può spingere due rivali a pensarsi dal primo momento della giornata? Scopriamo il mistero dietro le quinte del tennis mondiale. Questo rituale non è solo una routine, ma il simbolo di una rivalità che sta ridefinendo il tennis. Andiamo a scoprire insieme i dettagli. Oggi abbiamo un episodio imperdibile riguardante i due fenomeni del tennis moderno, Yannick Sinner e Carlos Alcaraz. Prima di iniziare, vi chiedo, avete mai pensato a cosa spinge veramente gli atleti al limite nelle grandi competizioni? Scopritelo con noi oggi! E non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi piacciono i nostri contenuti. Iniziamo con il palcoscenico che ha visto i due giovani protagonisti, la finale del Six Kings Slam. Qui, Sinner, il numero uno al mondo, ha conquistato un premio record di 6 milioni di dollari dopo aver trionfato in tre intensi set. Ma cosa si cela dietro la competizione? Un profondo rispetto e una stima reciproca che emergono non solo nelle vittorie, ma anche nei momenti di leggerezza. Durante un'intervista post-partita, Yannick Sinner ha sorpreso tutti con una dichiarazione spontanea su Alcaraz. Mi sveglio ogni mattina cercando di capire come batterlo. Una frase che ha provocato non solo risate, ma ha sottolineato l'intensità della loro rivalità e il mutuo stimolo a migliorarsi continuamente. La rivalità tra Sinner e Alcaraz non è solo una questione di classifiche e trofei, è una storia di amicizia e di crescita condivisa. Viaggiano spesso insieme e la loro comprensione reciproca trasforma ogni incontro in uno spettacolo di pura passione per il tennis. Che ne pensate di questa dinamica? Vi invito a commentare qui sotto le vostre opinioni e esperienze riguardanti rivalità amichevoli nello sport. Ogni battuta scherzosa, ogni sguardo di complicità tra i due non solo arricchisce la loro storia, ma infiamma anche l'interesse dei media e il cuore dei fan. La loro capacità di essere avversari feroci in campo e amici fuori modella un nuovo ideale di competizione nel tennis. Con Sinner, che vede Alcaraz come il mio più grande rivale, è chiaro che il futuro del tennis è luminoso. Le aspettative sono altissime e le loro carriere promettono di essere segnate da molti altri incredibili capitoli di questa entusiasmante rivalità. Oggi abbiamo visto come la rivalità tra Sinner e Alcaraz vada oltre la semplice competizione. È un'espressione di ammirazione mutua e di continua aspirazione all'eccellenza. Da spettatore, è un privilegio assistere a queste storie di sportività e umanità. Prima di concludere, ricordo a tutti di iscriversi a Notizie Livestream, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i nostri prossimi video, e lasciare un like se avete apprezzato questo episodio. Grazie per averci seguito e a presto con nuove e emozionanti storie.